Oggi sei ad Atina, sta esattamente nel centro storico all'interno del borgo del castello di Atina Superiore. Ci troviamo esattamente nella zona giorno di questo appartamento che si sviluppa su due livelli. Vediamo subito, grazie alla potenzialità del 360 gradi, quindi potete spostare con il dito sul cellulare o mouse in modalità computer. Vediamo subito quello che è la potenzialità, io mi sposto per permettervi di poter apprezzare appunto, vediamo il portone di ingresso in legno qui nella parte vostra frontale, girando sulla destra vediamo l'infisso a doppia anta in legno con gli scudi, sempre in legno. Proseguendo vediamo quello che è la spaziosità e nella parte opposta alla quale io adesso mi trovo abbiamo il veloce collegamento alla cucina per completare quello che è la vivibilità di questa zona giorno.